E ciao a tutti, come potete vedere oggi voglio parlarvi di Mud, storia di un golem, ma intanto diamoci un occhiano, eccoci, ciao, ecco qua, Mud, storia di un golem, Mud, storia di un golem, un'opera molto particolare, adesso andiamo subito a parlarne, partiamo dalle basi però, intanto. Parliamo di Mud, storia di un golem, erito in Italia dalla narrativa, opera originale della Turtle Bun, testi di Ewan Rowland e di Anne Schaffer, illustrazioni fondamentali, in questo caso, sempre di Ewan Rowland. Allora, Mud è un'opera molto particolare, tecnicamente quasi borderline dal mio punto di vista, dal mio punto di vista, tra il mondo del gioco di ruolo e l'atto esperienziale. Infatti, Mud si presenta come letteralmente un fumetto, in tutto, è letteralmente totalmente realizzato con l'arte del fumetto, ha un intro di una pagina soltanto in cui spiega rapidamente i concetti di sicurezza e le due, una, mezza regola necessaria. Infatti, nella seconda ricopertina abbiamo una scheda di personaggio, che non è altro che un golem, raffigurato dal davanti. Golem, la figura storica, mitologica, ebraica, creato da argilla, inciso la parola, verità, vita sulla testa, insomma. Un personaggio famoso nel setting della fantasia. C'è un golem, come vi dicevo, nella seconda ricopertina, e sotto abbiamo, mi è stato dato uno scopo e tre spazi vuoti, io non dormo però sogno e tre spazi vuoti, e anche io ho delle virtù e tre spazi vuoti. Il gioco come funziona? Il gioco scorre nella lettura di questo fumetto e ti mette di fronte a delle scelte in cui tu puoi prendere delle decisioni rispetto a quali sono i tuoi sogni, le tue virtù, i tuoi scopi. O fare delle attività di metagaming, cioè delle attività che di fatto escano dal canale del media fumetto lettore, ma vanno direttamente su di te. La cosa letteralmente più roleplaying presente in quest'opera. La prima, per esempio, molto forte, è quando vuoi cominciare chiudi gli occhi e inspira lentamente. Immagina che questo sia il tuo primo respiro di sempre. Espira e poi apri gli occhi. Questa è la prima attività che rifatta e rivolta letteralmente al lettore. E' il lettore che ha da fare questa attività. Quest'azione di meta, come vi dicevo. Quando si fanno queste attività si segna un pensiero. Se ne possono raccomerare fino a sei durante tutta la storia. E la storia è la lettura di questo fumetto, lasciarsi prendere delle emozioni e dell'esperienza di questo golem, fare delle scelte rispetto a quelli possono essere gli scopi, come vi dicevo, i sogni, gli obiettivi, le virtù. E, se ce la sentiamo, lasciarci trasportare all'aspetto emotivo e fare delle attività, come vi dicevo, di meta per fare un pensiero. Naturalmente l'opera si consuma in 15-20 minuti. Al più può arrivare a mezz'ora se prendiamo tutti i pensieri e li svolgiamo tutti completamente. Alla fine c'è un piccolo epilogo, non ve lo racconterò, che di fatto è il forte incipit di un qualcosa, di un personaggio creato, di una storia nata. Come vi dicevo, è più un'esperienza. Infatti anche l'editore è un gioco esperienziale in solitario. Viene così descritto dalla narrativa sulla quarta ricopertina. Include scelte guidate e spunti di attività con elementi di gioco o di ruolo. Infatti introduce elementi di gioco o di ruolo. È vero, alla fine è un po' borderline, ma ha un risultato molto forte sullo stomaco. L'ho letto e provato letteralmente durante una convention, quindi immaginatevi il caos generale intorno. È comunque riuscito a strapparmi un paio di lacrime, a mettermi in movimento lo stomaco. La storia di per sé, e mi sono perso a fare solo alcuni dei pensieri, ho deciso di scendere nel gioco del respiro iniziale perché ti poteva lanciare all'interno della storia, ma di per sé il gioco è rapidissimo, 15, massimo 30 minuti. Vedetelo per quello che è un esercizio di stile, un'opera che vuole andare a parlare direttamente alla pancia, alle emozioni, e che se glielo lasciate fare ci riesce benissimo e ti fa vivere una minuscola esperienza. È esattamente un gioco di ruolo? Borderline, dal mio punto di vista. È una bella esperienza? Sicuramente sì. Mad, ecco a voi! Ciao!